Facebook è un social network lanciato nel febbraio 2004. Il sito, fondato ad Harvard negli Stati Uniti da Mark Zuckerberg, era originariamente stato progettato esclusivamente per gli studenti di Harvard, ma fu presto aperto anche agli studenti di altre scuole. Oggi Facebook è il secondo sito più visitato al mondo dopo Google e ha cambiato profondamente molti aspetti legati alla socializzazione e all'interazione tra individui, sia sul piano privato che quello economico e commerciale. Gli utenti possono accedere al sito previa registrazione gratuita, durante la quale vengono richiesti dati personali come nome, cognome, data di nascita e indirizzo email. Completata la registrazione, gli utenti possono creare un profilo personale, includere altri utenti nella propria rete, aggiungendoli come amici, e scambiarsi messaggi anche privati via chat, incluse le notifiche automatiche quando questi aggiornano i propri profili. Gli utenti possono fondare e unirsi a gruppi per condividere interessi in comune con altre persone, organizzati secondo luogo di lavoro, scuola, università o altre caratteristiche, condividere contenuti multimediali e utilizzare i vari applicazioni presenti sul sito. Gli utenti possono lamentarsi e bloccare le persone sgradevoli. Per personalizzare il proprio profilo, l'utente può caricare una foto chiamata immagine del profilo, con la quale può rendersi riconoscibile. Può inoltre fornire ulteriori informazioni come comune di nascita, esempio, città natale Roma, e quello di residenza, esempio, vivo a Torino, la scuola frequentata, il datore di lavoro, l'orientamento religioso, politico, situazione sentimentale e molte altre cose. Gli utenti creano profili che spesso contengono fotografie e liste di interessi personali, scambiano messaggi privati o pubblici, possono creare e prendere parte a gruppi, in cui si condividono interessi, e a pagine legate a cose o persone che gli piacciono. Una delle applicazioni più utilizzate su Facebook è quella delle foto, dove gli utenti possono caricare un numero illimitato di album di immagini. Il solo limite è nel numero massimo di 1000 foto per album. Le impostazioni della privacy possono essere cambiate per ogni album, limitandone o meno la visione a certi utenti. Un'altra caratteristica delle foto è la funzione del tag, con la quale si appone un'etichetta su un'immagine, segnalando chi è presente nella foto e creando un link al suo profilo se si tratta di un altro utente Facebook. In questo modo si crea automaticamente, per ogni profilo, una raccolta di foto in cui quell'utente è stato taggato. Facebook offre diversi servizi di messaggistica privata. È possibile inviare privatamente dei messaggi ad altri utenti, se le impostazioni della privacy lo consentono. Ad aprile 2008 è stata lanciata l'applicazione Chat per scambiare messaggi in tempo reale con gli amici collegati al loro profilo Facebook. Il 15 novembre 2010 è stato annunciato un nuovo servizio integrato di gestione dei messaggi. Tramite una sola applicazione è ora possibile gestire contemporaneamente messaggi sms, chat, email e normali messaggi, e regolare le impostazioni della privacy. La funzione Note, introdotta nell'agosto 2006, permette agli utenti di pubblicare scritti e articoli in maniera simile a un blog. Sono attive le funzioni di tag e di inserimento immagini. Il 21 aprile 2010 è stato lanciato il tasto Mi piace, con il quale gli utenti possono esprimere apprezzamento su dei singoli contenuti. Dall'aprile 2011 la chat è stata arricchita da una funzione per effettuare chiamate vocali, che permette anche di lasciare messaggi in una segreteria vocale. Il 6 luglio 2011 è stato lanciato il servizio di videochiamate che utilizza la tecnologia di Skype. Su Facebook gli utenti italiani attivi mensilmente sono 26 milioni, quasi la metà dell'intera popolazione del paese. Di questi, 23 milioni si collegano alla piattaforma da mobile. Questo dato ribadisce, se mai ce ne fosse bisogno, l'importanza di un social network come Facebook per chi si occupa di comunicazione nella pubblica amministrazione. Da tempo l'attività di comunicazione delle notizie si sta confrontando con la tendenza delle persone ad accedere alle informazioni quasi solo attraverso i social e in particolare attraverso Facebook. La comunicazione che proviene dal settore pubblico, ovviamente, non rimane fuori da queste logiche e anche la pubblica amministrazione deve fare i conti con queste dinamiche. Da quando è stata lanciata la pagina Facebook del Consiglio regionale ha numeri altissimi dal punto di vista degli utenti connessi e dell'interazione. a livello delle principali esperienze nazionali. Su questo spazio è possibile trovare un mix di contenuti molto diversi fra loro, i comunicati dell'attività istituzionale, le bellezze del Piemonte, informazioni su viabilità e meteo, curiosità, insomma una nuova piazza orientata alla persona con l'obiettivo di ascoltare e capire cosa interessa sapere della pubblica amministrazione per poi avviare un dialogo costante. Da poche settimane è attiva anche la modalità Instant Articles per i comunicati istituzionali. Il Consiglio è la prima amministrazione in Italia ad aver adottato questo sistema per fruire gli articoli direttamente dalla app mobile di Facebook. Questa novità permette un caricamento di pagina 10 volte più veloce rispetto alla normale app di Facebook e una facilità estrema nella condivisione sui social. Twitter è un servizio gratuito di social networking e microblogging creato nel marzo del 2006 che fornisce agli utenti attraverso l'omonima piattaforma una pagina personale aggiornabile tramite messaggi di testo con lunghezza massima di 140 caratteri, 120 nel caso si inserisca un link o un'immagine. Gli aggiornamenti di stato possono essere effettuati tramite il sito stesso, via SMS, con programmi di messaggistica istantanea, posta elettronica oppure tramite varie applicazioni. Il nome Twitter deriva dal verbo inglese to tweet che significa cinguettare. Tweet è anche il termine tecnico degli aggiornamenti del servizio. Gli aggiornamenti sono mostrati nella pagina di profilo dell'utente e comunicati agli utenti che si sono registrati per riceverli. È anche possibile limitare la visibilità dei propri messaggi oppure renderli visibili a chiunque. Il servizio è diventato estremamente popolare anche come avversario di Facebook grazie alla semplicità ed immediatezza di utilizzo. Esistono diversi esempi in cui Twitter è stato usato dagli utenti per diffondere notizie come strumento di giornalismo partecipativo. Ad esempio, nel caso del terremoto in Abruzzo del 6 aprile del 2009, gli utenti Twitter hanno segnalato la notizia prima dei media tradizionali. Twitter deve la sua semplicità anche alla mancanza di alcune funzioni tipicamente riscontrabili in social network come Facebook. Su Twitter non esistono amici, ma follower e following, ovvero persone che seguono gli aggiornamenti e persone di cui vengono seguiti gli aggiornamenti. In entrambi i casi non c'è bisogno di ricambiare l'attenzione. Se una persona ha deciso di seguirti e visualizzare i tuoi messaggi, tu non devi per forza ricambiare il favore diventando suo follower e viceversa. Per commentare un post o una foto su Twitter bisogna usare la funzione rispondi, l'icona della freccia che va verso sinistra, presente sotto a ciascun messaggio. Facendo clic su questo pulsante comparirà in automatico un campo di testo con all'interno una chiocciolina e il nome utente della persona a cui vuoi inviare la risposta. La chiocciolina è il simbolo usato su Twitter per menzionare una persona e conversare con lei. Ad esempio, per menzionare l'utente tizio in un tuo tweet bisogna scrivere chiocciolina tizio all'interno del messaggio. Anche se tizio non è un follower, ossia non segue i tuoi aggiornamenti, riceverà una notifica della menzione che hai effettuato. Da aprile 2010 Twitter ha introdotto la possibilità di creare tweet sponsorizzati. Per il momento sono disponibili solo a un numero ristretto di account. Il 30 aprile 2009 Twitter ha cambiato la sua interfaccia web con l'aggiunta di una barra di ricerca e un riassunto di temi di attualità, temi di tendenza, cioè le frasi più comuni che compaiono nel messaggio. Diversamente da Facebook o altri social network, non esiste una chat o l'invio di file allegati e non è consentito inviare messaggi a persone che non siano follower. I messaggi possono essere ricevuti solo se il destinatario è un following del mittente, invece per inviare un messaggio diretto è sufficiente avere il destinatario come follower. I messaggi brevi di Twitter possono essere etichettati con l'uso di uno o più hashtag, parole o combinazioni di parole concatenate precedute dal simbolo cancelletto. Etichettando un messaggio con un hashtag si crea un collegamento ipertestuale a tutti i messaggi recenti che citano lo stesso hashtag. Il Consiglio regionale del Piemonte è stata la prima assemblea legislativa italiana a utilizzare in maniera sistematica Twitter come canale di informazione e dialogo con i cittadini. Aperto dal 2011 è stata la prima finestra sull'attività istituzionale, in particolare per il racconto live delle sedute di consiglio attraverso l'utilizzo dell'hashtag OpenCR Piemonte. Da cronaca di un momento speciale della vita del Consiglio, oggi Twitter è un vero e proprio canale informativo per la cittadinanza che sulla timeline può trovare diversi aspetti di interesse della comunità piemontese. Quotidianamente vengono postati gli appuntamenti a Palazzo Lascaris, le ultime notizie ANSA, il bollettino meteo elaborato dall'ARPA, le rubriche informative elaborate dal Consiglio. Ma è anche un canale che veicola contenuti più leggeri, consigli libri, bellezza del Piemonte, appuntamenti del weekend o ricette tipiche. Oggi la nostra nuova frontiera è un coinvolgimento sempre più attivo del cittadino utente attraverso il social network, una sorta di antenna sul territorio che può partecipare in prima persona nella comunicazione, come ad esempio nel caso di emergenze climatiche, calamità naturali, trasporti o eventi di altro genere. Instagram è un social network che permette agli utenti di scattare foto, applicare filtri e condividerle su numerosi altri servizi social, compresi Facebook, Foursquare, Flickr e molti altri. Instagram all'inizio presentava la peculiarità del formato fotografico quadrato, a cui spesso si aggiungeva sul bordo superiore e inferiore dell'immagine, o su quelli laterali, uno spesso margine bianco e questa caratteristica ricordava vagamente lo storico formato cartaceo Polaroid. L'applicazione è stata lanciata il 6 ottobre 2010 e inizialmente era disponibile solo per iPhone. Dal 2012 è disponibile anche per i dispositivi che supportano Android e dal 2013 per Windows Phone. Una volta scaricata l'applicazione si può avviare Instagram facendo tap sulla sua icona e cominciare la registrazione che si trova nella parte bassa della schermata. Si crea l'account gratuito digitando l'indirizzo mail oppure eseguendo l'autenticazione tramite Facebook o mediante numero cellulare. Successivamente si digita il nome utente e la password che si vuole usare su Instagram. Si imposta la foto profilo e si completa la procedura di iscrizione pigiando prima sul segno di spunta collocato in alto a destra e poi sul pulsante Sì. A registrazione effettuata Instagram chiederà di trovare gli amici Facebook e di trovare i contatti da seguire importandoli dalla rubrica di Android, iPhone o Windows Phone. Chiaramente non c'è alcun obbligo, si può scegliere se accettare o se pigiare sull'opzione salta e bypassare questi passaggi. Effettuate tutte queste operazioni, per così dire preliminari, siamo finalmente pronti a entrare nel vivo della cosa e a scoprire come usare Instagram. Per scattare subito una foto e applicare degli effetti speciali, basta cliccare sull'icona della macchina fotografica che si trova in basso al centro e dopodiché scegliere se andare ad agire su eventuali foto già presenti nella libreria del telefono schiacciando su libreria e selezionando un'immagine oppure se ne possono scattare di nuove semplicemente facendo tap su foto e scattando una foto così come avviene di solito. Dopo aver scattato o dopo aver scelto la foto su cui agire, si sceglie il filtro che si desidera applicare all'immagine selezionandone uno tra i tanti disponibili. L'effetto finale del filtro sulla foto e la relativa cornice saranno mostrati in tempo reale. Se non interessa l'uso dei filtri, basta invece lasciare selezionata l'opzione Normal. Oltre ad applicare un filtro e una cornice prima di pubblicare foto su Instagram, è possibile regolare automaticamente tutti i principali parametri dell'immagine. Per fare ciò, si clicca sul pulsante raffigurante un sole al centro della schermata visualizzata e poi sulla voce fine collocata in basso a destra. Se il risultato della regolazione automatica non è soddisfacente, si può agire manualmente su orientamento, luminosità, contrasto, struttura, calore, saturazione, colore, sfumatura, alte luci, ombre e nitidezza e aggiungere l'effetto vignettatura o quello Tilt-Shift, utilizzando gli appositi comandi accessibili dalla voce modifica. Una volta ottenuta la foto che vogliamo, si clicca sulla voce avanti, collocata nella parte in alto a destra della schermata. Dopodiché si digita l'adidascalia con cui accompagnare la foto nell'apposito campo di testo. Poi si selezionano i servizi di social sui quali postare la foto oltre a Instagram. Si indica il luogo dello scatto pigiando sulla voce aggiungi o facendo direttamente tap su uno dei suggerimenti disponibili. Se nello scatto sono presenti amici o conoscenti che hanno un account su Instagram, si possono taggare procedendo similmente a quanto è possibile fare su Facebook e su altri social network. Per taggare un utente Instagram in una foto, basta cliccare sulla voce Tagga le persone, toccare poi nel punto dello scatto in cui si vuole effettuare il tag, digitare il nome di colui o colei che si vuole taggare nel campo Cerca una persona e pigiare sul suggerimento che viene mostrato. Dopo aver aggiunto il tag o i tag e dopo aver apportato tutte le modifiche desiderate, si clicca sulla voce Fine che è collocata in alto a destra della schermata che viene mostrata. Infine, si clicca sul pulsante azzurro Condividi presente a fondo schermo e si attende qualche istante affinché l'upload dello scatto venga eseguito e affinché la foto venga pubblicata su Instagram. Come tutti i social network, l'aspetto della community è fondamentale. Si può iniziare a sfogliare le foto fatte da altri utenti, commentare o segnare con un mi piace quelle che ci piacciono di più e diventare follower dei nostri fotografi preferiti. Innanzitutto, si può dare un'occhiata alle foto che stanno avendo maggior successo su Instagram cliccando sull'icona della lente di ingrandimento che si trova in basso a sinistra. Poi, si ingrandiscono gli scatti che ci piacciono di più sfiorando le loro anteprime e si mette mi piace o commenta le immagini usando gli appositi pulsanti in basso. Per sfogliare tutte le foto di un utente e aggiungerlo all'elenco di persone che si vogliono seguire, basta selezionare il suo nome in alto a sinistra e cliccare sul pulsante segui. In questo modo, si diventa suo follower e si ricevono tutte le sue foto nel canale Instagram. Il profilo Instagram di un ente locale può rappresentare un punto di riferimento efficace per quanto riguarda lo storytelling. Lo storytelling ricopre un ruolo nodale quando si parla di pubblica amministrazione 2.0 e in particolare di enti locali. Senza indicazioni chiare relative agli hashtag è difficile dare corpo a percorsi efficaci per i quali è decisiva la partecipazione degli utenti. Non si può parlare di pubblica amministrazione 2.0 senza chiamare in causa l'importanza dei contenuti visuali e senza considerare la valenza di Instagram, una piattaforma che se utilizzata secondo specifiche regole strategiche è in grado di migliorare in maniera notevole la comunicazione tra enti locali, cittadini e realtà aziendali attive su un determinato territorio. Per questo, da qualche mese alla gestione istituzionale del canale Instagram si è affiancata quella a conduzione della community. Raccontare la nostra regione attraverso le vostre fotografie condivise sull'account Instagram di CR Piemonte è il progetto hashtag iLakePie. Chi può raccontare la regione meglio delle persone che la abitano e la frequentano tutti i giorni? Ne conoscono le mille sfaccettature, i segreti e le curiosità? Per questo, grazie alla collaborazione con IG World, ogni settimana un utente diverso gestisce il canale postando le fotografie delle migliori bellezze delle province piemontesi. La presenza su Instagram riveste un ruolo fondamentale. Anche sotto questo punto di vista, la pubblica amministrazione può interagire in maniera più diretta con gli utenti e dare corpo a un processo di comunicazione completo dove anche il target finale viene coinvolto grazie all'efficacia dei contenuti partecipativi e alla cura delle leve di engagement.